Il primo tempo abbiamo iniziato la prima mezz'ora molto bene, abbiamo aggredito subito altri avversari, siamo faciti bene e abbiamo costruito un bel gioco, gli ultimi dieci minuti loro ci hanno un po' messo sotto però siamo riusciti a tenere e a fare il primo gol. 3, 2, 4! які! Strah доб bilbo! Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più, erano loro che volevano provare ad appareggiarla e anche vincere, ma ci siamo capiti per una buona situazione di difesa che abbiamo fatto con noi e l'ho tenuto tutto un tempo soffrendo anche, avendo un paio di occasioni e sono riusciti a portare a casa. Bene, grazie, posto, ciao.